Ciao ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Allora, si fa un gran parlare di serie TV e ultimamente ne sono uscite diverse, grosse, importanti, popolari, mettiamola così. Stranger Things, che deve ancora chiudersi, poi Umbrella Academy e poi The Boys. Insomma, tanta roba tutta insieme, più o meno. Però ci sono anche delle serie che non sono state trattate molto bene dal punto di vista della promozione e dal punto di vista anche dell'accoglienza. Vabbè, l'accoglienza dipende anche dal gusto personale, io non dico di no, però a volte mi dispiace scoprire delle serie e subito dopo domandarmi Cavolo, ma perché non ne ho mai sentito parlare? Perché nessuno mi ha segnalato l'esistenza di questa serie. E sto parlando in questo caso di due serie Netflix. Una un po' più discussa, l'altra proprio zero, il porto zero. Non ne avevo mai sentito parlare. Allora, la prima è Space Force. Ora, addirittura con Space Force mi è successa una cosa strana, molto strana. Mi ha fatto sentire davvero un po' fuori posto. Allora, io guardo la prima stagione di Space Force, mi innamoro letteralmente della serie. All'epoca c'era un minimo di buzz, un minimo di discussione, e praticamente ogni discussione che mi è capitato di leggere su Space Force la paragonava in qualche modo a The Office, vedendola perdere contro The Office. Io non sapevo neanche che ci fosse una gara, o comunque... Boh, non pensavo fossero due serie sovrapponibili. Secondo me lo sono soltanto in parte, cioè... Un ambiente di lavoro e un occhio di bue su Steve Carell. Mi rendo conto che se non ci fosse stato Steve Carell, ci fosse stato un altro attore, un altro bravo attore, e probabilmente i paragoni con The Office sarebbero stati meno della metà della metà. Però, ecco, tanta gente non ha apprezzato Space Force perché non era all'altezza di The Office. Ora, io non credo che si possa fare questo tipo di discorso, ma capisco anche perché è stato fatto. Ciò nonostante, a me Space Force è piaciuta moltissimo. Anzi, per quelli che sono i miei gusti, l'ho anche preferita a The Office. Perché aveva quella spinta in più sul surreale, perché aveva quella spinta in più... In termini tecnici, la fotografia di Space Force non è neanche lontanamente paragonabile a quella di The Office. Cioè, Space Force è una fotografia spettacolare che raramente vedi in un film, per dire. Cioè, proprio belle immagini, belle immagini. Secondo me è un casting fotonico. E nel caso ve lo steste chiedendo, se non vi è mai capitata sotto le mani questa Space Force, praticamente è una serie dal pilio aziendale, in cui si parla delle vicissitudini di questa azienda, aziendona. In realtà è un'agenzia spaziale, non è la NASA, è la Space Force, ok? C'è una forte componente scientifica nelle loro missioni e, tanto per dire, le puntine di diamante trascurabili sono i due personaggi più importanti della vicenda, che sono Steve Carell e John Malkovich. Già solo che c'è Malkovich insieme a Carell dovrebbe farvi capire quanto in realtà, dietro questa serie, ci sia stato un certo investimento. E non solo economico. Io ho adorato Space Force. Ho veramente adorato questa serie. Quello che credo non sia piaciuto molto è il ritmo piuttosto blando. Non ci sono risate fragorose, battute super crudeli. No, c'è soltanto questo bel sarcasmo leggero, c'è questa atmosfera surreale, ma non abbastanza da farti sganasciare. È tutto molto misurato in Space Force. Il ritmo non è forse nato, gli episodi durano poco, eppure all'interno non provano a infilarci 300.000 cose. Cioè, mi viene da pensare al ritmo di un episodio dei Griffin, per dire, in un normalissimo episodio di 20 minuti nei Griffin riescono a infilarci 15 cose, più i flashback, più gli spezzoni. Cioè, è un bombardamento. Ecco, Space Force non è così. So che i nostri tempi si sono un po' evoluti, sono un po' cambiati, me ne rendo conto anche su di me. Sono un po' cambiati con l'utilizzo dei micro social, Instagram, TikTok, vabbè, Twitter aveva già fatto questo danno collaterale alla letteratura di tutto il pianeta. Cioè, ha convinto molte persone che non fosse in realtà necessario scrivere 100 pagine per spiegare qualcosa. Il microblogging ha iniziato quello che stanno facendo adesso altri social. e secondo me si inizia a patire un po' tutte quelle forme di narrazione per immagini e serie tv, film e anche fumetti che non riescono ad andare dritti al punto nel giro di 5 scene, nel giro di 5 tavole, nel giro di poco, insomma. Secondo me Space Force ha subito questo contraccolpo culturale, mettiamola così, ma io la ritengo davvero una bellissima serie. Al momento, dopo un bellissimo cliffhanger alla fine della seconda stagione, il progetto è stato annullato, non messo in pausa, annullato. A meno che a qualcuno non venga in mente di salvare Space Force con un film per dare una degna conclusione a quanto abbiamo visto. Perché vi dico la verità, a me non dispiace il fatto che Netflix blocchi certi prodotti, mi dispiace che tronchi certi prodotti. Troncare qualcosa è difficile sopportarlo. Bloccare qualcosa con cognizione di causa invece significa dire signori, non c'è più margine per un'altra stagione. Chiudiamo con un episodio di un'ora e mezza, con un film sostanzialmente, così gli appassionati sono contenti, i non appassionati non lo guarderanno mai, ma non ce ne frega, ma intanto la gente smetterà di disiscriversi dalla nostra piattaforma. Perché vi dico la verità, con Netflix, secondo me, si è generato questo cane che si morde la coda in cui io ho paura che la serie che seguo verrà interrotta. Quindi che faccio? Prima di iniziare a vederla, aspetto di vedere se arriva la fine. E se io faccio così, in realtà non sto facendo capire a Netflix che mi interessa, perché non la guardo, aspetto che finisca. Bastano mille persone, duemila persone, tremila persone che la pensano come me, che usano questa strategia e di colpo Netflix capisce che, oi boh, non interessa a nessuno questa serie. In realtà è solo che siamo, in molti, terrorizzati all'idea di investire emotivamente in qualcosa che non vedrà mai una conclusione. Se invece nelle linee guida di Netflix, dichiaratamente dalla piattaforma stessa, ci fosse qualcosa come «Signori, non vedrete mai troncare una serie», noi cercheremo sempre di allocare un tot di budget di sicurezza per chiuderla in maniera dignitosa. Con un film, con le ultime due puntate, che in qualche modo... Già questo mi farebbe tornare ad investire nelle prime puntate della prima stagione di una nuova serie. Ma come stanno adesso le cose? Io non riesco a tollerare Space Force troncata così. Non ce la faccio. Ripeto, non so bene quali siano i motivi, ma se fate una ricerca e cercate le peggiori serie Netflix di sempre, ci troverete in mezzo Space Force. Il tutto mentre Netflix porta avanti roba come Lost in Space, che credo sia estremamente più dispendiosa di Space Force, e ha molto meno senso. Cioè, Lost in Space poteva essere interessante la prima stagione, ma le altre sono veramente un loop infinito della stessa roba. Oh, siamo tutti salvi, attenzione, c'è un'urgenza, forse no, dobbiamo muoverci. Oh, il potere della famiglia, tutti insieme ce la faremo. Abbiamo risolto il problema. Ma no, una meteora. Oh, diamine, proprio non possiamo rilassarci un attimo. Dai, tutti insieme, il potere della famiglia, lacrimucce, ok, ce l'abbiamo fa. Ah, un campo di forza. Cioè, raga, basta, basta. C'è bisogno di un cambio di paradigma in Lost in Space. Basta, che palle. E vanno avanti da non so quanto tempo, e non so con quanti soldi. Basta, basta. Porca puttana. E poi, l'altra serie di cui volevo parlarvi, che secondo me è veramente incredibile, è veramente bellissima, scritta bene, recitata ancora meglio, è God's Favorite Idiot. L'idiota preferito di Dio. Raga, io ci sono capitato a caso, veramente a caso. Vi spiego un po' di cosa si tratta. God's Favorite Idiot praticamente parla di questa piccola cerchia di amici, no? All'inizio sembra di guardare veramente un The Office. E ho pensato, vabbè, sta cosa qui sarà praticamente quella roba, però con qualche variante sul tema. Invece no, non c'entra quasi nulla. Sì, è ambientato in buona parte in un ufficio, sul posto di lavoro, quindi c'è il rapporto con i colleghi, questi colleghi ovviamente assortiti in modo tale che facciano sempre ridere qualsiasi cosa si dicano. Però la cosa veramente carina è il fatto che c'è un'incursione mistica in tutto ciò. Cioè, a un certo punto fa capuzella proprio Dio. Uno di questi lavoratori, in realtà uno dei più decenti, perché sono quasi tutti dei fancazzisti, viene scelto da Dio per riportare il nome di Dio in giro per il mondo, perché si è, diciamo così, si è persa la parola di Dio, la gente non ha più fede, e lui viene scelto per questo arduo compito. Il tutto mentre all'altro mondo, nel senso in paradiso o all'inferno, a seconda, si sta consumando una feroce battaglia tra le forze di Dio e le forze di Lucifero. Questa è la storia. Ovviamente, si tratta di una comedy, quindi i toni sono assolutamente rilassati, a volte forzatamente rilassati, per fare da contrasto a questa guerra celeste che si sta combattendo. Vabbè, gli episodi sono brevi. 25 minuti a episodio, quindi ti fa l'effetto ciliegia, quindi puoi guardartelo mentre mangi, a pranzo. Bellissimo. Il casting è stellare. Non nel senso che ci sono attori incredibilmente famosi, no, stellare nel senso che sono belli proprio da vedere questi attori, perché non sono belli da vedere. Non hanno scelto dei super fighi, non hanno scelto delle super fighe, sono persone molto vere. E tra queste persone ci sono dei bei rapporti, molto più veri di quelli che potresti vedere in una serie drammatica, per dire. A volte, sì, tu c'hai la serie drammatica, seriosa, però vedi ste storie d'amore che te nella vita non le hai mai viste, è così. Tu vedi questi attori che... La tipa è insicura, che in realtà è bellissima. Il tizio che... che è tutto chiuso in se stesso, ma è un modello di Calvin Klein. Non esiste, capito? Quella persona... Tutto che... Non ho mai avuto una raga... Ti salterebbero addosso le ragazze, ti spolperebbero vivo. Ultimamente ho visto un film, si chiamava... Luke Qualcosa, Luke Qualcosa... Allora, l'ho quasi rimosso il titolo, ma una cosa me la ricordo. La protagonista è India Easley. Vi metterò un'immagine, così... Così vi fate un'idea, ok? India Easley. E recita la parte della bullizzata a scuola. Lei, lei... Lei bullizzata... Al liceo, Quella lì, quella... Viene bullizzata. Ora raga, parlo per esperienza diretta, perché io l'ho fatto il liceo. Se nella mia scuola ci fosse stata una tipa così, strana quanto vuoi, magari un po' chiusa in se stessa, quello che vuoi, non sarebbe mai stata bullizzata. Non c'è speranza che una così venga bullizzata al liceo. Piuttosto, la cosa più realistica che mi viene in mente è che un giorno lei entrando a scuola si ritrovi una statua uno a uno della sua persona fatta in oro che troneggia così nell'androne. E l'unica cosa che può succedere è una così, al liceo. L'unica. Cazzo, non mi ricordo il titolo. Look qualcosa... Don't look... No, Don't look è un pochè, quello con... Come un DiCaprio. Oh, ma sai, look away? No, 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 no. Vabbè, ve lo scrivo qua sotto perché al momento se sto alzheimerando fortissimo non mi viene. Comunque, questo God's Favorite Idiot ha dei personaggi che sono assolutamente plausibili. Sono persone normali. Non sono supermodelli, supermodelle e ti affezioni a tutti perché ti rivedi in tutti. Non c'è una situazione che tu dici, no, vabbè, è proprio costruita, è proprio... No. Cioè, nonostante, è tutto assolutamente surreale. Però è costruita così bene, è scritta così bene che davvero è un piacere seguirla questa serie, è un piacere guardarla. Purtroppo sono arrivato già alla fine della prima stagione e sto aspettando con molta, molta attesa e soprattutto con speranza la seconda. Chissà, chissà. Potrebbe essere una cosa che va veramente per le lunghe. Io spero che si chiuda in due, massimo tre stagioni. Perché sai, il troppo stroppie. E... Lost in Space dovrebbe averlo insegnato. Thirteen Reasons Why dovrebbe averlo insegnato. La Casa di Carta dovrebbe averlo insegnato. Sto citando tutte serie Netflix che si meriterebbero un sacco di sputi e invece continuano ad andare avanti. A beh, 13 ormai si è esaurita. Per fortuna. Ma il suo cadavere ha continuato ad arrancare sui nostri coglioni a lungo prima di spegnersi. Ecco, non lo so ragazzi, voi conoscevate God's Favorite Idiot? Avete mai dato una possibilità a questa Space Force? E se non vi è piaciuta, perché ci sta, mi spiegate perché. È un problema di ritmo, è un problema di storytelling. Non lo so, a me lo storytelling è sembrato incredibile, addirittura esemplare in Space Force. Forse è una serie che dieci anni fa sarebbe stata una delle migliori sulla faccia della Terra. Magari oggi sono cambiati un po' dei parametri, perché siamo abituati ad altre cose. Però, non lo so, veramente trovarmi Space Force nella lista delle 15, non mi ricordo quante fossero serie peggiori Netflix, in cui non c'era Lost in Space, tra l'altro, mi ha fatto veramente strano. Stranissimo. Stranissimo.